Ancora poche ore per cercare l'intesa tra Invitalia e Mittal, i soci di Acciaieria d'Italia pronti al divorzio e che sia consensuale auspica il governo che ha attivato il proprio team legale per cercare la soluzione, si spera, meno dolorosa. Fase delicata dunque per l'Exilva per la quale tra le prospettive possibili c'è l'amministrazione straordinaria, una strada da scongiurare per i sindacati che il 18 torneranno a Roma per sentire i parametri entro i quali si realizzerà l'uscita del socio francoindiano. L'amministrazione straordinaria è sicuramente da scongiurare, speriamo che il governo non prenda questa strada anche perché noi siamo già passati da un'amministrazione straordinaria che ha lasciato uno strascico non indifferente, tra l'altro una seconda amministrazione straordinaria farebbe saltare le aziende dell'indotto, dell'appalto, ci sarebbe veramente un disastro sociale e sicuramente credo che con un'ennesima amministrazione straordinaria sostanzialmente si perderebbe tempo. La questione qual è? Che qualsiasi decisione che il governo assumerà in questi giorni, noi ovviamente allo stesso governo chiediamo che si faccia garante e che metta in sicurezza ovviamente non solo i livelli occupazionali, il rilancio dello stabilimento, gli investimenti, ma soprattutto ovviamente che metta anche in sicurezza i lavoratori dell'appalto e dell'indotto con appositi sostegni che possano dare ossigeno alle aziende dell'indotto e soprattutto ai lavoratori dell'indotto.